Veniamo alla consegna del Golden Domus, dal miglior agente del gruppo toscano, la categoria è attività e operazioni immobiliari. Il vincitore è in Toscano dal 2014, ha venduto 19 immobili, 42 incarichi di vendita acquisiti, è arrivato secondo nel 2016, terzo nel 2018, quarto nel 2021 e vince per la prima volta il Golden Domus, attività e operazioni immobiliari, Isam Rosselli! Complimenti Isam! Complimenti, consegniamo il Golden Domus, ecco questo è il primo, speriamo, pesa, pesa. E io anche a te vorrevo rivolgere una domanda, insomma, lavori con noi da diverso tempo, ti sei sempre distinto per risultati molto interessanti, fino appunto ad arrivare al Golden Domus, hai una bella famiglia, sei sempre stato costante nell'attività, però secondo me ti manca qualcosa, eh? Che vuoi fare da grande? Quest'anno la apro, dai, la dichiaro. Ah, dichiari? Cosa? L'agenzia la apro. Ah, eccolo, dichiara che apre l'obiettivo è quello. L'obiettivo è quello. Bene, era questo che, secondo me mancava proprio questo, perché insomma, hai fatto un percorso straordinario, poi ho visto quella foto che mi ha impressionato, quella in acqua. Sì. È in serio, c'era una tartaruga, era vera? Sì. No, perché ci provo, ma... Magari, no, adesso, quando apri l'agenzia e staremo più a stretto contatto, andiamo in palestra insieme. Bene, allora, grande applauso a Isam Rosselli! Complimenti ancora!